Tutto facile, anche fin troppo. Mai visto una superiorità così netta, così schiacciante. Dopo aver maltrattato la Cavese, la regina spazza via anche il Bisceglie, tre gol e senza neppure spingere sull'acceleratore, in soltezza insomma, proprio come fanno le grandi. Mimmo Toscano ha già dato un'anima a questa squadra, un'identità, un gioco. La sua regina è già in rampa di lancio. La prestazione fornita contro il Bisceglie, degli ex Ungaro, Zibbert e Mastri Polito, conferma che la fase di apprendimento è ormai gli sgoccioli. La squadra segue uno spartito comune e sembra anche divertirsi un mondo. Merito di Mimmo Toscano, un in grado di lasciare fuori Sunas, tra i migliori in questo avvio di stagione, senza che la squadra ne possa risentire. Un in grado di recuperare mentalmente anche Nicola Bellomo, lasciando addirittura fuori German Dennis, a conferma di una personalità senza eguali. All'estimate del vincente Toscano, lo hanno capito, anche i 9.000 del Granillo, un Granillo versione fortezza inespugnabile. Tra Coppa e Campionato sono già arrivate tre vittorie in altrettante partite, partite mai banali, un po' come le scelte del mister, che per superare l'ostacolo Bisceglie e prendersi così il secondo posto si affida a Nicola Bellomo. Agisce da mezzala l'ex barese, ha il compito di innescare la coppia Reginaldo Corazza, che al momento offre le maggiori garanzie. In difesa c'è spazio per Marchi, mentre in mezzo si rivede De Rose al ritorno dopo la squalifica. Solo panchina per Salandria, Sunas e Dennis. Il Bisceglie, reduce dal pareggio con il Catanzaro, mica uno scherzo, risponde puntando su un 3-4-1-2 offensivo, ma solo sulla carta, sì perché per 90 minuti Guarna resta praticamente a guardare. La regina piazza subito le tende nella metà campo ospite, ne viene fuori una gara a senso unico con Bellomo a disegnare calcio e Reginaldo e Corazza ad attaccare gli spazi e a furia di spingere il muro pugliese si sgretola a dare la prima spallata e il solito Corazza con un colpo di testa che muore alle spalle del portiere ospite. Ma il tiro al bersaglio non finisce qui perché la regina non si accontenta e al 39esimo trova anche il gol del 2-0 con uno dei pupilli di Mimmo Toscano, Desiderio Garufo. L'acquisto meno sponsorizzato si rivela decisivo e mette in ghiaccio una gara che andrebbe sospesa per manifeste inferiorità. La regina tuttavia non ha nessuna voglia di infierire e nella ripresa si limita a gestire. C'è spazio anche per l'esordio in maglia maranto di German Dennis anche se a rubare la scena nel finale e soprattutto Rolando, imprendibile per Tarantino, costretto alle maniere forti per fermare l'esterno. Inevitabile per lui arrivi il doppio giallo e dalla successiva punizione nasce il gol del 3-0. La firma è di Nicolo Bianchi, bravo ad effare così il portiere ospite. La gara di fatto finisce qui anche se la squadra ci prova comunque a far segnare Dennis, ma le motivazioni e le energie lentamente scemano perché la testa è già al San Nicola di Bari dove lunedì prossimo andrà in scena il primo vero esame della stagione. Fuori i secondi, le grandi sono pronte ad incrociare i guantoni. Grazie. Grazie.